Un'iniziativa voluta dai conservatori europei e quindi da Fratelli d'Italia per tutelare, promuovere lo sport come diritto umano tra i più importanti, fra tutti i diritti umani. Significa quindi aiutare a rendere accessibile la pratica sportiva ovunque a chiunque, indipendentemente dalle possibilità economiche, indipendentemente dal contesto territoriale, indipendentemente anche dalle condizioni psicofisiche perché noi sappiamo che lo sport consente anche a chi è portatore di una o più disabilità di sviluppare la propria attenzione verso il superamento dei limiti e il concorso con gli altri nel superare questi limiti e quindi è qualcosa che va favorito naturalmente non soltanto a parole ma anche con iniziative concrete.